Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti ad un nuovo tutorial in italiano per War in the East 2. Dunque, l'argomento di questo tutorial potrà essere abbastanza complicato e per questo motivo io ho fatto del mio meglio per renderlo più semplice e abbordabile a tutti. Ho pensato di fare un video solo per questo perché volevo trasmettere due messaggi chiave. Il primo è che vorrei convincervi alla fine di questo tutorial che è fondamentale rispettare la catena di comando per quanto riguarda le unità. Quindi, per quanto riguarda le forze dell'asse, avere sempre divisioni, brigate o reggimenti subordinati ai corpi d'armata i quali sono a loro volta subordinati alle armate, le quali sono sottoposte ai gruppi d'armate, i quali dipendono dal comando supremo. Il secondo punto riguarda la distanza tra le unità che prendono parte ai combattimenti e i vari QG che stanno sopra nella catena di comando. Il topic è molto complicato, quindi mettetevi comodi e cominciamo. Dunque, ogni singola azione che sia dal decidere di mandare una unità in riserva nei combattimenti, all'assegnare i rifornimenti o i punti in movimento a una determinata unità, richiede un superamento di una serie di posti di blocco. Nella versione inglese si chiamano i leaders check, quindi i controlli dei comandanti, ma noi chiamiamoli i posti di blocco. Questi posti di blocco devono essere superati dai vari comandanti di gruppo d'armata, armata, gruppo d'armate e comando supremo affinché le unità possano, ad esempio, ricevere punti in movimento o essere commissionate in combattimento. Come funziona questo sistema? Per facilitarmi in questo, ho preso spunto da una tabella di Excel presa da un topic del forum, tra parentesi metterò il link a questo topic nella descrizione qua sotto, e sostanzialmente cominciamo dall'inizio. Questi posti, posti di blocco, questi sì, chiamoli sì, questi checkpoints, questi punti di controllo hanno, diciamo, un valore minimo da superare. Il valore minimo è indicato qui, in questa colonna base. I corpi d'armata hanno un valore di 10, le armate un valore di 20, i gruppi d'armata di 40 e il comando supremo di 80. Ora, prendiamo, ad esempio, uno dei miei comandanti preferiti, cioè il generale von Manstein. Von Manstein, guardando, ad esempio, a livello dell'iniziativa, vediamo che ha una iniziativa pari a 9. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando von Manstein, o meglio, l'ottava divisione Panzer devono fare un controllo, un check dell'iniziativa, ecco che prima di tutto interviene von Manstein. E von Manstein, avendo una iniziativa pari a 9, von Manstein ha esattamente il 90% di probabilità di passare questo punto di controllo, questo check. Ecco, non esiste la certezza assoluta che tutto vada sempre a buon fine, ma esiste appunto questa probabilità dei comandanti di superare o meno questi controlli, questi check. Ora, von Manstein ha il 90% di probabilità di superare questo check. Qualora von Manstein fallisse, ecco che interviene il suo superiore, qui in questo caso, il generale delle truppe corazzate, Eric Hoepner, il quale ha un valore di iniziativa pari a 7. Le cose però si complicano un pochino, perché mentre prima il valore di base del gruppo d'armata era uguale a 10, quello dell'armata è uguale a 20. E quindi, facendo un po' di matematica, dobbiamo togliere questa probabilità, perché abbiamo solamente più il 10%, quindi 1-0,9 per 7 diviso 20, perché quello che rimane per il valore dell'iniziativa diviso il valore massimo di questo punto di blocco. E quello che viene fuori è il 3,5% di probabilità di superare questo posto di blocco, questo check dell'iniziativa. E adesso potrei andare avanti all'infinito, oddio, all'infinito no, però immagino che abbiate capito quale sia il pattern, che a livello di corpo d'armata c'è la più alta probabilità di superare questi check, questi controlli. E man mano che si sale nella catena di comando, la probabilità si riduce sempre di più. Piccola parentesi, i consigli che normalmente davo alla fine dei miei tutorial, li darò invece adesso. Per quanto riguarda le forze dell'asse, conviene sempre assegnare i migliori comandanti a livello del corpo d'armata. Questo perché, appunto, a livello del corpo d'armata c'è la più alta probabilità di superare questi controlli. Viceversa, non ho la tabella per i sovietici, perché il tipo non l'ha fatta, io non ho avuto il tempo di farla, ma, mi sembra, dall'agosto del 1941, i sovietici perdono tutti i loro corpi d'armata. E quindi la fazione sovietica si ritroverà con brigate e divisioni assegnate direttamente alle armate. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la fazione sovietica avrà dei malus. Sì, ha dei malus in quanto assegnare un'unità direttamente alle armate complica molto la catena di comando, la gestione dell'unità. E non solo. Primo. Quindi, su questo punto di vista, i sovietici sono molto più svantaggiati rispetto all'asse. Secondo, i generali sovietici sono generalmente più scarsi di quelli dell'asse. Quindi, buona fortuna, qualora vogliate giocare con l'armata rossa. Per quanto riguarda l'asse, invece, giusto per darvi un esempio pratico, se prendessimo la divisione Totenkopf, che è assegnata direttamente al gruppo d'armate, e facessimo lo stesso calcolo di prima, ecco che in questo caso verrebbe 7 diviso questo valore qui, 12. e quindi viene fuori che la Totenkopf ha solo il 58% di probabilità di superare un check dell'iniziativa contro il 90% di probabilità che avrebbe qualora la Totenkopf fosse sotto il comando di Von Marstein. Quindi, morale della favola, mettete i comandanti migliori ai corpi d'armata e lasciate le vostre divisioni sotto i corpi d'armata. Bene, ma non è finita, perché c'è la questione della distanza. Ed è eccola qua. Dunque, vi ricorderete, spero, dal tutorial dell'infobox che i vari quartieri generali hanno un range di azione, in particolare un range di comando, all'interno del quale possono esercitare la loro influenza sui loro subordinati. In particolare, i corpi d'armata hanno un range di 5, le armate hanno un range di 15, i gruppi d'armata hanno un range di 45 esagoni e il comando supremo ha un range di 90 esagoni. E fino a qui uno potrebbe anche dire ma che male c'è? Io basta che tenga che ne so la 269esima entro 5 esagoni dal 41esimo gruppo d'armata motorizzato, basta che io tenga il 41esimo gruppo d'armata motorizzato entro 15 esagoni dal ehm ehm dove è? Ecco, dal quarto gruppo panzer basta che io tenga il quarto gruppo panzer entro 45 esagoni dal gruppo d'armata nord e viceversa lo stesso dicasi per il gruppo d'armata nord. ehm no non è così semplice non è così intuitivo questo perché? Perché questo che viene indicato come range bonus potremmo in teoria definirlo come la distanza minima entro la quale non ci sono dei malus alle probabilità di ehm superare un check perché? E in questo caso credo sia l'ora di far vedere tutto questa è diciamo la tabella finale in cui voi potete ehm sbizzarrirvi nell'inserire ehm diciamo i valori che ne so qui li ho fatti per formanstein e il check dell'iniziativa e quindi ecco che in condizioni ottimali io avrei il 94% di probabilità di passare appunto il check dell'iniziativa con formanstein ma per quanto riguarda questa distanza vi ho detto che questa è la distanza minima alla quale ehm 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 è la distanza minima grazie alla quale si possono evitare delle piccole penalità e questo perché? Perché sostanzialmente ehm funziona così questa penalità viene data è un numero diciamo casuale che varia da zero a questa formula qui cioè ehm la distanza del dell'unità dal quartier generale alla quale è subordinato ehm meno questa distanza minima diviso questo modificatore di comando per i corpi di armata ehm questa distanza minima è zero e cioè vuol dire che i corpi di armata possono esercitare la loro azione di controllo e chiamiamola si chiamiamola comando e controllo ehm c2 ehm entro un raggio ehm di 5 esagoni anzi potremmo potremmo definirla meglio come la massima capacità di comando e controllo entro i 5 esagoni che è appunto il limite massimo dei ehm del range dei corpi di armata mentre per le armate qui ho indicato come distanza 15 mentre qui è indicato 10 questo vuol dire che alla distanza di 15 c'è già un tipo un piccolo malus che viene indicato come 2,5 e questo malus è indicato appunto dalla 15 meno 10 diviso 2 perché questo è un QG di armata è lo stesso dicasi per ehm il gruppo d'armate quindi abbiamo in questo caso 45 meno 15 che fa 30 diviso 3 10 e quindi il malus è di 10 e così via questo che cosa vuole dirvi con questo voglio dirvi che se noi provassimo invece a a striminzire queste distanze tenete bene a mente questo numero 94% perché se noi striminzissimo le distanze ecco che viene viene fuori 95% e qui il il malus che c'è questo modificatore del raggio di comando si annulla e con questo dove voglio arrivare a parare voglio arrivare a parare in questo senso tenendo diciamo vicini gli uni agli altri i QG di gruppo d'armata quelli dell'armate dei gruppi d'armate e il comando supremo voi aumentate leggermente la probabilità di passare questi check questi posti di blocco questi controlli ma cosa vuol dire vuol dire che se voi voleste dare la priorità a un obiettivo voi dovreste in teoria sacrificare un po' di probabilità di passare questi check sugli altri obiettivi e l'esempio che a me viene semplemente è quello della presa di Leningrado nell'estate del 41 Leningrado dovrebbe essere la priorità assoluta per un giocatore dell'asse e quindi il giocatore dell'asse dovrebbe spostare il comando supremo e il gruppo d'armata nord in modo da tenerli sempre vicini anzi entro questi range qui quindi avere le divisioni entro cinque esagoni dai gruppi d'armata questi entro dieci dalle armate questi entro quindici dalle armate e poi tenere appunto il gruppo d'armate nord entro venti esagoni da quello dal comando supremo e quindi diciamo che detto questo io non dovrei più avere altro da aggiungere spero che la spiegazione sia stata efficace se ci fosse qualcosa che non sia chiaro mi raccomando scrivetelo nei commenti qui sotto vi ringrazio per il supporto che date al canale vi ringrazio per tutto di cuore e vi aspetto con piacere al prossimo tutorial